Nonostante i pareri contrari della responsabile della PO numero 7, dottoressa Giuseppina Chianetta, e della dirigente servizio ragioneria, dottoressa Carmela Russello, l'Aggiunta Municipale di Favara ieri sera ha deliberato di non applicare la maggiorazione del 50% della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in occasione della fiera d'ottobre 2015. Infatti, secondo un decreto legislativo del 1993, in caso di fiere, festeggiamenti e mercati, tranne attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è possibile applicare alla normale tariffa un aumento massimo del 50%. A Favara fino all'anno scorso si pagava 1,15 euro al metro quadro. Da maggio 2015 è stata aumentata a 4,13 euro al metro quadro, portata poi, in caso di fiere, festeggiamenti e mercati, con una maggiorazione del 50% a 6,19 euro al metro quadro. Gli espositori per questa fiera, per un normale stand 12x3, avrebbero dovuto pagare circa 400 euro, cifra che di fatto ha scoraggiato molti di loro che hanno rinunciato a parteciparvi. Ed ecco che l'Aggiunta in Estremis corre ai ripari e decide di non far pagare la maggiorazione del 50% a questi espositori, che potranno così partecipare alla fiera, pagando adesso all'incirca 280 euro. L'amministrazione comunale, nella delibera di giunta firmata ieri sera, parla dell'importanza che riveste questo evento in città. Un grande evento, scrivono, che si tramanda da almeno 50 anni ed è un importante volano economico per la città stessa, in quanto richiama una moltitudine di popolazione limitrofa e non, dando grande impulso alle attività economiche della città. L'Aggiunta a Manganella ammette che l'incremento della tariffa del 536% ha causato molteplici rinunce di espositori storici della fiera, con il rischio che tale evento per l'anno 2015 non potesse più svolgersi. Proprio per questo ha proposto e votato all'unanimità di non applicare in occasione della fiera d'ottobre 2015 la maggiorazione del 50% fissando la tariffa TOSAP a 4,13 euro al metro quadro.